Mi chiamo Arnaldo Minetti e sono una persona, un cittadino, un essere sociale. In particolare faccio l'imprenditore, ma contemporaneamente mi occupo di volontariato in modo attivo e faccio il giornalista. Sono nato a Bergamo nel 1947, mio padre Francesco Detto Cecco ha creato nel 1938 lo stificio prealpino, un'azienda di ostia per torrone e cialde per gelato e mia madre Demi, toscana, l'ha aiutato per una serie di anni e poi si è occupato dei tre figli. Abito a Bergamo. Come imprenditore il mio ruolo si svolge principalmente nell'azienda paterna di produzione di coni e cialde per gelato. Sono approdato a questa scelta alla fine degli anni 70. Prima insegnavo e facevo il giornalista, una improvvisa malattia di mio padre ha fatto sì che rispondesse al grido della foresta e quindi mi sono addentrato in un mondo che conoscevo solo per la frequentazione della quotidianità e dei discorsi che facevamo in famiglia. Ma proprio non sapevo niente, non sapevo nemmeno come funzionava l'IVA. E quindi è stato un apprendimento interessante e in quegli anni mio padre si era ripreso, è morto cinque anni dopo. Per fortuna mio padre mi ha aiutato molto, mi ha trasmesso valori e insegnamenti su cui poi ho costruito tutto il percorso successivo. Valgono sia a livello produttivo tecnologico sia a livello di atteggiamento e quindi l'apertura sempre verso l'innovazione, verso investimenti di sviluppo tecnologico, ma col paletto preservato della qualità. Sempre mirare a avere una produzione che resti artigiana, che miri all'eccellenza, che sappia dare risposte personalizzate alle esigenze del settore. Su questo si è costruita la progettualità successiva e diciamo che sono orgoglioso di portare avanti il progetto imprenditoriale di mio padre e di averlo sviluppato in virtù anche delle mie caratteristiche sicuramente diverse da quelle di mio papà. Questo è l'elemento fondamentale che ha fatto sì che in tutti questi decenni l'ostificio prealpino abbia potuto poi essere all'avanguardia nell'innovazione coniugata con la tradizione, cioè con la creazione di coni di grande formato, di forme differenti l'una dall'altra, di grandi ghiere che sappiano supportare e agevolare la lavorazione a spatola, che è una delle caratteristiche del gelato artigianale e abbiamo fatto un punto d'onore il fatto che il cono diventi elemento di valorizzazione del gelato artigianale. Deve essere croccante, deve essere ovviamente anche fresco, deve essere resistente, deve essere buono, ma mai tanto dolce da sovrapporsi al sapore del singolo gusto. è uno dei motivi per cui quella moda che sta affermandosi da un po' di tempo ci fa sorridere, cioè il desiderio di avere il cono arrotolato, tipico simbolo dell'industria, dell'ice cream industriale, un cono che per arrotolarsi deve essere più dolce del 30% di zucchero, nessun gelato al 30% di zucchero, quindi è il cono degli incompetenti, è il cono di chi non ama il gelato purtroppo. Noi vogliamo valorizzare sempre le caratteristiche del gelato artigianale. Chi sono i miei clienti? In ultima analisi i consumatori, ma non arrivo direttamente al consumatore. Il consumatore finale deve essere quello che apprezza il piacere di un gelato artigianale valorizzato da un buon cono artigianale. A loro arrivo attraverso gelatieri, attenti a tutti i particolari, che non mettono solo cura, passione, professionalità nel fare un ottimo prodotto, ma che sanno che tutti gli aspetti degli accessori e del servizio devono rispondere a un progetto di qualità, e quindi il cono deve essere di alta qualità. Ma anche a loro non arrivo direttamente. Il mio riferimento come ostificio prealpino è la rete dei distributori specializzati. Distributori che devono essere a loro volta colti, preparati, capaci di analisi, capaci di proposta, e che nel fare un servizio settimanale di consegna di tutto ciò che serve per fare e vendere un buon gelato artigianale, abbiano anche interesse alla comunicazione, alla formazione per far crescere la professionalità. Quindi un progetto molto articolato, molto complesso, e nessuno dei tasselli può essere dimenticato. Su ciascuno bisogna lavorare con intensità e impegno. Ho fatto il 68, anzi, data l'età l'ho anche preparato molti anni prima, e l'ho fatto con intensità, perché per chi c'è passato? L'aria ammuffita, stantia e conservatrice del nostro paese avvelenava tutto, e quindi era necessario darsi da fare per cambiare, per innovare e per affermare sempre meglio, sempre più intensamente valori, movimenti e comunità profondamente ricchi di contenuti e di voglia di trasformazione. Questo desiderio di impegno, di valenza politica profonda, si è progressivamente trasformato in un impegno sull'ambito della solidarietà, del lavoro intenso sul sociale, in specifico nel mio caso sul socio sanitario, che è passato sicuramente anche per casualità di incroci personali, e quindi malattie, morti, lutti, di parenti strettissimi, di amici e di altri, e una sensibilità specifica su questi aspetti è passato dalla lotta contro i tumori, e con tutte le attività a sostegno della prevenzione e della ricerca in questo senso, ha un impegno sempre più specifico e approfondito sulle cure palliative, cioè la lotta totale alla sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale attraverso le cure palliative, le cure totali, quelle per intenderci che hanno dato vita agli hospice e alla rete dell'assistenza domiciliare, ospedalizzazione domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Ci vuole progettualità e il progetto non deve essere progetto di singoli o di lobby, deve essere un progetto comunicato e condiviso dalla comunità, e quindi diventa un obiettivo comunitario, e quindi diventa forza travolgente per condizionare e imporre alle istituzioni la presa d'atto dei bisogni, del desiderio, del servizio necessario, e quindi diventa poi diritto della comunità. Bergamo fu una delle prime città in Italia a creare, grazie al nostro ruolo, l'assistenza domiciliare dell'ASL, allora USL, con presenza anche dei nostri volontari, e man mano che facevamo questa attività ci rendemmo conto che una componente, circa il 20% dei malati in fase avanzata, non aveva la possibilità di permanere a domicilio perché le case erano disagevoli, perché gli interventi erano troppi, perché i familiari non avevano la possibilità di accudirli, o addirittura erano persone sole, e allora si trattava di fare ciò che nel mondo era già stato fatto, soprattutto in ambito anglosassone, e cioè creare gli hospice, delle strutture di degenza in cui la centralità del malato è al primo posto, in cui la cura è cura totale, e da Caraponi, Bergamaschi, con grande impegno, raggiungemmo in tre anni, allora era in miliardi, 4 miliardi e mezzo di raccolta, e creammo il primo hospice pubblico in Italia, pubblico perché? Perché appena l'abbiamo fatto l'abbiamo regalato agli ospedali riuniti di Bergamo per affermare la bandiera che questo doveva essere un servizio pubblico, gratuito a disposizione dei malati in fase avanzata delle loro famiglie. Ci siamo portati a casa da poco quella interessante legge per le cure palliative che finalmente definisce fondi, definisce obblighi per le regioni di costruire la rete, di fare percorsi formativi, di fare un osservatorio, addirittura c'è un passaggio in cui le regioni che non applicheranno rapidamente tutte le applicazioni di questa legge per costruire la rete al meglio e al più presto, verranno penalizzate e addirittura commissariate. Sono delle belle cose, quindi le abbiamo ottenute in base a un lavoro intenso e con successo, però non è mai finita. È ovvio che anche qui ci sono delle lobby che lavorano contro, che sminuiscono questa battaglia nuovamente di rivoluzione culturale che mette la centralità del malato al primo posto, ma che implica l'approccio totale e quindi contro il tecnicismo esasperato, contro gli sperperi nell'inappropriatezza diagnostica e terapeutica che arriva addirittura all'accanimento e tante altre cose del genere. Se l'analisi è stata corretta, se l'evidenziazione dei bisogni è stata corretta e potenziata e articolata con un lavoro di sensibilizzazione, se gli obiettivi che ci sono posti sono entrati in un piano progettuale che è stato condiviso dalla comunità e quindi è diventato obiettivo comunitario, ci potranno essere anche deviazioni di percorso, rallentamenti, ma la vittoria è sicura perché risponde a quello che inevitabilmente nel movimento della realtà verso il miglioramento è da ottenere e si otterrà.